Altra tappa del maxi progetto di illuminazione di Padova, che prevede luci più moderne ed efficienti in buona parte della città. Ora la zona interessata è quella che da Prato della Valle si estende a nord fino allo scaricatore. Sono già state sostituite le cabine dell'energia elettrica e rinnovata l'impiantistica negli ultimi mesi. Da ora fino alla fine del mese di marzo i lavori si concentreranno sull'illuminazione del rione Madonna Pellegrina. Qui molte strade passeranno da un'illuminazione vecchia e poco efficace a una luce a led più forte, più efficiente, più confortevole e che garantirà anche una maggiore sicurezza stradale. Madonna Pellegrina però è solo una fetta del lavoro complessivo. Riceveranno nuove luci anche Città Giardino, Santa Rita, Santo Svaldo e parte della Guizza. Il progetto complessivo, una volta completato, assicurerà luci a led a più del 50% della città con un risparmio in bolletta fino al 40%. Soldi dei cittadini, che rimarranno nelle casse del Comune, potranno essere investiti in altre opere e servizi.